Si è conclusa con la premiazione degli studenti la prima Olimpiade della lingua inglese del Consorzio BIM di Teramo. Nella sala conferenze della Camera di Commercio, ad 80 studenti dell'ultimo biegno delle scuole superiori, sono stati consegnati gli attestati della certificazione Cambridge e i migliori sei sono stati premiati con un viaggio studio di due settimane ad Oxford. Questa è una novità assoluta per Teramo. Quanto è importante l'inglese per il futuro di questi ragazzi? L'inglese ormai è diventato l'elemento che ci porta ad affrontare le realtà lavorative e professionali con una certa professionalità. Non possiamo più assolutamente farne a meno. È la condizione sine qua non per poter vivere e restare attivi in una società sempre dinamica. Grazie a questa iniziativa loro avranno una certificazione prestigiosa? Assolutamente sì. Noi abbiamo coinvolto tutte le scuole del territorio, i quarti e i quinti superiori e questi ragazzi hanno fatto un corso di inglese gratuito, poi hanno fatto la certificazione del Cambridge che è una certificazione che significa che loro non dovranno fare più l'esame di lingua inglese all'università. Per sei di loro c'è anche un riconoscimento? Eh sì, oggi premiamo sei ragazzi in assoluto che faranno due settimane di viaggio studi ad Oxford, quest'anno andiamo. Ovviamente tutto questo noi non potevamo farlo se non ci fosse stato il presidente del BIM Vomano Marco Di Nicola e le referenti linguistiche che veramente ci hanno dato una grande mano.